Avrebbe ostacolato una motovedetta libica durante il soccorso di un'imbarcazione di migranti, disattendendo anche le indicazioni del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo. Per questo motivo, nei confronti della Open Arms giunta a Crutone con 57 migranti nella serata di sabato 20 gennaio, è stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo per 20 giorni ed una sanzione che potrà arrivare fino a 10.000 euro in base al decreto piantedosi che regola gli interventi della ONG. Il provvedimento è stato preso dopo le verifiche svolte dal personale della Polizia di Stato, Guardia Costiera e Guardia di Finanza che sabato sera era salito a bordo della nave della ONG spagnola al termine delle operazioni di sbarco di 57 migranti, soccorsi poi nel Mediterraneo in tre differenti interventi. L'Open Arms, dopo il soccorso, era stata destinata al porto di Brindisi, ma per le difficili condizioni meteomarine all'imbarcazione era stato indicato il porto di Crutone per effettuare lo sbarco dei migranti.